Un evento sold out, quello che ha chiuso la stagione concertistica organizzata dall'Associazione Culturale Arts Nova, ospitato dal Teatro Mecenate di Arezzo. Sul palco l'Orchestra della Toscana, direttore e violoncello Mario Brunello. Abbiamo proprio il compito di creare qualcosa che non è ancora stato, perché la musica stessa è scritta, ma finché non viene suonata non è in vita, perciò dobbiamo noi dare il soffio vitale a questo. Io penso che è lo sviluppo di un lavoro coerente, di una programmazione ragionata, che porta a creare il pubblico. Il pubblico non può venire semplicemente su richiami pubblicitari, o su dichiarazioni sensazionali e di effetto, questo è l'artista migliore del mondo, il più bravo, eccetera. Il pubblico deve venire e provare ad ogni singola rappresentazione un'emozione sempre più forte, sempre costante. E la fedelizzazione della cultura che è importante, non l'evento, lo spot. Io penso che lo sforzo che ha fatto Arsenova, sia nel campo musicale che nel campo dell'arte figurativa, della scultura, delle conferenze, è quello di dare continuità nella qualità e qualità nella continuità.